Musica Ben ritrovati con il Tg Venezia di Caffè TV 24. A solo due giorni dall'inizio dell'obbligo di possesso del Green Pass sul luogo di lavoro, già si registra un forte aumento delle assenze per malattia, nonché molti casi in cui vengono presentati certificati di esenzione dal vaccino di dubbia credibilità. In problema emerge ogni volta che ci sono situazioni di questo tipo, conferma il dottor Maurizio Scassola, segretario della Federazione dei Medici di Base di Venezia. Ma i dati mostrano che l'aumento di certificati di malattia è limitato, si registra tra il più 6% e il più 12%, secondo i calcoli dell'Inps. Da questo punto di vista, Scassola ricorda che il medico di famiglia deve visitare di persona il paziente, ma sottolinea anche che alcune circostanze sono complesse. Nel momento in cui il paziente segnala un forte mal di testa o una colica addominale, che il dottore non ha modo di constatare per esempio, bisogna necessariamente basarsi sul rapporto di fiducia tra medico e paziente. Diverso è il caso dei due medici veneziani, non di base ma specialisti, che avrebbero rilasciato certificati discutibili di esenzione dal vaccino anti-Covid a pazienti che in realtà non presentavano reali condizioni di controindicazione. È stata proprio la Federazione dei Medici di Base a segnalare i casi all'ordine dei medici. Questi professionisti, spiega ancora Scassola, hanno attestato che alcuni loro pazienti non possono vaccinarsi, indicando motivazioni non conformi con quelle previste dall'Istituto Superiore di Sanità. Su questo, prosegue, non abbiamo tentennamenti. Il medico ha il dovere di certificare in un ambito di legalità e chi lo fa al di fuori delle regole commette un grave danno e un illecito. Come sindacato e come ordine la nostra condanna è irremovibile. I due medici in questione al momento stanno continuando ad operare regolarmente e quindi non rientrano tra quelli, 58 in totale nella provincia di Venezia, che sono già stati sospesi per essersi rifiutati di sottoporsi al vaccino. Sono comunque casi limite, fortunatamente molto pochi. La grande maggioranza di chi non vuole vaccinarsi sta ricorrendo all'effettuazione di tamponi periodici per ottenere il Green Pass necessario per andare sul luogo di lavoro. Così, come prevedibile, si è registrata un'impennata del numero di tamponi eseguiti. Nel fine settimana l'Ustrane ha fatti tra i 9.000 e i 10.000 al giorno, quasi il doppio rispetto a quanto avveniva in precedenza. Su questo fronte anche le farmacie stanno lavorando a ritmi serrati, a testimoniarlo le lunghe code davanti alle entrate. Ma c'è anche chi di certificazione verde non vuol proprio sentir parlare, che per farlo capire continua a scendere in piazza a protestare. A Mestre, lo scorso sabato, erano quasi 8.000 i no Green Pass in corteo. Tra loro anche l'imprenditore ex presidente della Confapi Venezia, Ivan Palasgo, che proprio in quell'occasione ha dichiarato «Ci vuole una nuova Nuremberga». Da libero cittadino ha voluto presenziare l'evento per dire il suo secco no ad una misura che definisce un diktat globale del capitalismo farmaceutico. Per l'imprenditore, infatti, le responsabilità del governo sono evidenti. In qualsiasi altro paese un ministro come quello della Salute e Speranza dopo quanto accaduto si sarebbe già dimesso. Sono morte migliaia di persone. Occorre un processo tipo quello di Nuremberga. Chi ha sbagliato deve prendersi le sue responsabilità. Anche la via d'uscita per lui resta provocatoriamente una sola. L'unico modo per uscire da tutto questo è che ognuno di noi prenda coscienza di quanto sta accadendo e non si pieghi. Io personalmente farò resistenza individuale e disobbedienza civile. Tra i presenti molti altri imprenditori come Roberto Agirmo, Freevax, che manifesta anche la sua volontà di sostenere i portuali di Trieste, dichiarando che, secondo lui, proprio la loro resistenza potrebbe determinare la svolta. Ieri poi, domenica 17 ottobre, si è svolta anche la manifestazione degli studenti contro il Green Pass in campo San Pantalon, continuata fino alle 18.30. E sempre ieri, solo alcune ore prima, attorno a mezzogiorno e mezzo, una squadra del soccorso alpino di Cortina è stata inviata sulla stradina che dal rifugio Palmieri scende verso Casera Federa, nel Bellunese, per prestare aiuto ad un escursionista colto da Malore. G.A.B., 62 anni, di Venezia, aveva perso i sensi per poi riprendersi pochi minuti dopo. Dopo essersi stabilizzato, la squadra di soccorso lo ha accompagnato in fuoristrada al rendezvous con l'ambulanza, che lo ha trasportato all'ospedale per le verifiche del caso. Nella stessa giornata, l'eliambulanza ha dovuto recarsi al picco di Roda a Pieve di Cadore per un secondo escursionista in difficoltà. M.N., quarantenne di Marghera, si era infatti fermato senza più essere in grado di scendere o salire a causa del ghiaccio formatosi sulle rocce. Individuato e caricato a bordo con un berricello, l'escursionista è stato fortunatamente tratto in salvo e caricato a bordo. Le involuzioni dell'inventiva si applicano davvero ad ogni settore, anche quello dello spaccio. È il caso del 27enne fermato venerdì sera in campo Santa Margherita, Venezia, la cui trovata è stata quella di utilizzare la mascherina anti-Covid come nascondiglio per la droga. A fermarlo sono stati alcuni agenti in borghese del nucleo operativo della polizia locale, che hanno trovato il ragazzo in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina in un piccolo taschino all'interno della mascherina. Ad insospettire gli operatori impegnati in controlli antidroga è stato l'atteggiamento del ragazzo, impegnato a salutare tutti i giovani passanti, tentando di entrare in contatto con loro. Una volta fermato e accompagnato al comando, gli sono stati sequestrati 190 euro in banconote di piccolo taglio che custodivano il portafoglio, possibili guadagni dell'attività di spaccio. È stato dunque denunciato a piedi libero, oltre ad essere sanzionato con una multa di 450 euro per violazione del regolamento di polizia urbana per aver rispettato i propri bisogni fisiologici in luogo pubblico. Infine gli è stato imposto un ordine di allontanamento della durata di 48 ore. Nel corso degli stessi controlli è stato sanzionato con una multa sempre di 450 euro e ordine di allontanamento della durata di 48 ore anche un ventenne scoperto a fare uso di marijuana. E concludiamo come sempre con le notizie sportive. Non è riuscita all'Umana Reier l'impresa al Mediolanum Forum che si è conclusa con un 93-68 finale a favore dell'imbattuta a Ax Milano, capolista sia in campionato che in Eurolega. Ma per maggiori dettagli sentiamo l'intervista al coach De Raffaele. Chiedo scusa già adesso se sarò molto breve ma onestamente non ho molto da dire su questa partita perché è stata una partita che è durata veramente pochissimo. Troppa Milano per Venezia in questo momento, su questo non c'è dubbio, giocano ad un livello onestamente superiore al nostro e sotto gli occhi di tutti. Credo che sono due partite dove abbiamo trovato due squadre onestamente molto più forti di noi in questo momento. Questa non è una giustificazione. Credo che invece quando si vengono fuori partite di questo tipo dove onestamente abbiamo fatto fatica ovunque anche ad impattare in ogni duello fisico ma soprattutto quando la squadra poi offre una prestazione di questo tipo la prima responsabilità è di chi la mette in campo. Quindi credo che onestamente la responsabilità di questa partita sia principalmente sulle mie spalle ma non per fare l'eroe ma perché credo che così come mi prendo spesso quando le cose vanno bene credo sia giusto anche farlo quando le cose non vanno male, non vanno così bene. Detto questo, sembrerò eretico ma l'unica nota, piccolissima nota positiva credo il fatto che comunque ci abbiamo provato fino in fondo facciamo fatica a trovare sia quintetti stabili sia quintetti competitivi ma soprattutto emotivamente competitivi e di conseguenza fisicamente competitivi credo che giocare con Milano sia soprattutto una sfida fisica prima che tecnica e se non impatti sotto quell'aspetto fai fatica a fare qualsiasi azione al di là poi di richiamare o richiedere un fallo in più o in meno e poi emotivamente diventa quando poi sbagli anche tanti tiri aperti diventa una voragine non ho sinceramente molte ricette se non quelle di lavorare di richiedere più senso di responsabilità di cercare di trovare un'identità che in questo momento non c'è e quindi andiamo avanti sapendo che ogni partita sarà una battaglia però certamente cercheremo di non fare più partite di questo genere anche se non sono certo cose volute o fatte apposta come qualcuno magari ingenuamente può pensare e anche per quest'edizione è tutto vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione di Caffè TV 24